Buongiorno a tutti, benvenuti qui, vedo molte persone di fuori, vedo molti aritini, io immagino in questo momento se le pietre potessero parlare penserebbero siamo impazziti, stiamo tornando indietro, questa è una piazza che tantissimi anni fa ha visto veramente lavorare le donne e gli uomini di quel periodo nei banchini, a vendere le mercanzie, a scambiare gli animali, quindi è bello, è bello credo, e complimenti al settore, complimenti al sindaco, complimenti a chi ha pensato di raccontare ai cittadini e a chi verrà nella nostra città la storia, la tradizione di Arezzo attraverso mettere in piedi questa manifestazione, grazie a tutti i gruppi che parteciperanno, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie per animare la nostra città, grazie per visitarla, grazie per pensare che è bello rimettere la storia laddove la storia è nata, quindi bella iniziativa, bella idea, complimenti a Arezzo, ha bisogno di essere conosciuta nel mondo perché credo una città straordinaria come straordinaria la Toscana nella quale Arezzo naturalmente è presente. In bocca al lupo a tutti e buona manifestazione.